Andiamo dentro. Tutti i finalisti come posto al sindaco? Non ce n'è almeno uno i finalisti. No, no, fai... Prego tu bianco-nero. Tutti bianco-nero? No, adesso non lo vuoi. No, vabbè, bene. E anche uno da Fiorentina. Grazie. Ora, Geometra a lei ha i giorni contabili. Dovete fare una cosa super rapida, eh? La classica finta, che poi alla fine... Un bello. Un bello. Un bello. Uno pericoloni. Un bello. Un bello. Un bello. Un bello. Ma che è la? Ma che è la? Ma hai fatto? Mamma, ho fatto i selfie. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.